Di fronte al caro affitti e a un mercato immobiliare che sembra essere ormai impazzito con prezzi delle case esorbitanti, sempre più inavvicinabili per molte famiglie, è giusto per chi è disperato occupare le case sfitte? È una provocazione, ovvio, ma da qui partiamo per questa nuova puntata di Mosche con il nostro direttore Matteo Vallero. Ciao Matteo. Ciao Davide, grazie a te, buonasera. Provocazione, ma comunque anche proposta in alcuni casi, fino a un certo punto provocazione. Provocazione, ma per qualcuno, ovviamente come si dice sempre nella domanda c'è anche la risposta. Sì, questa è la strada da percorrere. I dati sono quelli che ovviamente sono anche riportati dalle cronache politiche di queste ultime ore con il caso Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra che anni fa occupò una casa in Lombardia e che oggi è chiamata a rispondere di quella occupazione, visto che oggi i soldi li avrebbe. Ma non entriamo più nel merito, lo facciamo tra un attimo. Vi presento gli altri ospiti della nostra puntata di oggi con noi in studio Elisa Montemani della Lega, ben ritrovata. Grazie, buonasera a tutti. E collegata proprio da Bruxelles dall'Europarlamento, Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. Ben ritrovata anche a lei. Grazie. Vediamo subito col cartello numero uno la questione, la inquadriamo, la polemica su Ilaria Salis e le sue parole. I movimenti di lotta per la casa non tolgono niente a nessuno, ha detto non vanno a occupare la casa delle persone. Si parla ovviamente di abitazioni lasciate vuote, sfitte. Cercano di risolvere un enorme problema sociale che le istituzioni non sono in grado, non hanno la volontà di risolvere. Quello che dicevamo. Ilaria Salis, la sua storia è nota. Prima di essere incarcerata a Budapest, è stata appunto insegnante in Lombardia, ha occupato un'abitazione. All'epoca diceva di guadagnare troppo poco per potersi permettere di pagare un affitto. Sono stati fatti dei conteggi a spanne su quanto avrebbe dovuto pagare, si parla di 90.000 euro, all'Istituto delle Case Popolari della Lombardia, l'Aler. Di fatto, oggi che è europarlamentare, le si chiede conto proprio di quello. C'è stata una mozione che è stata approvata proprio in Consiglio regionale della Lombardia che va in quella direzione. È scoppiato il caso politico, cartello numero due, con le parole del leader di Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Italiana, Fratoiani e quello che ha detto anche il segretario della Lega Salvini. Fratoiani dice, mi ritrovo nelle battaglie di Ilaria Salis per il diritto alla casa, anche nelle occupazioni. Anzi, chiedo che occupare case non sia considerato reato. Risponde Salvini, mentre la Lega con il salva casa libera milioni di proprietà ostaggio della burocrazia, questa orrenda sinistra da centro sociale rivendica con orgoglio le occupazioni abusive, un invito all'illegalità e alla prepotenza, uno schiaffo ai cittadini per bene. Montemagni, non le chiedo ovviamente da che parte sta, ma le chiedo, chi è disperato e che deve fare quando non ha una casa? Ma intanto è chiaro che il problema è un problema sociale, ma che deve essere risolto all'interno della legalità della situazione, perché è troppo facile dire vado a occupare le case spitte, intanto perché le case spitte, a differenza di quello che dice la Salis, non sono libere e quindi sono comunque proprietà di qualcuno, che sia proprietario un comune piuttosto che il pubblico o che sia una persona privata, è ovvio che sono di qualcuno. E se ci sono delle persone che sono in graduatoria per avere accesso alla casa, non vedo perché ci debba essere qualcuno che non rispetta le leggi, non rispetta la legalità e magari si pensa anche più furbo e va a occupare le case. Io credo che sia inaccettabile, perché in uno Stato come il nostro bisogna agire all'interno di quelle che sono le regole e la legalità. Penso altresì che il problema che c'è debba essere risolto, ma risolto anche in maniera stabile, perché non sono le occupazioni che risolvono il problema, perché altrimenti arriviamo al punto che tutti si mettono a occupare. Se occupare fosse lecito, legittimo e fosse anche legale, è ovvio che domani ci sarebbe la corsa a occupare le case. E allora non viviamo più in uno Stato e viviamo nel Far West. Questa sarebbe proprio una cosa che è inconcepibile e inaccettabile. Scuderi, da Bruxelles, intanto sulle parole anche di Salvini che ha risposto a Fratoianni e a Salis. Ma si può risolvere soltanto con l'illegalità questo problema? No, per quanto mi riguarda l'occupazione dovrebbe non essere necessaria. Il problema che adesso la rendiamo necessaria. In Italia ci sono 650 mila persone che in lista d'attesa per case popolari, ci sono solamente poco più di 300 mila case popolari, quindi non si costruiscono le case di edilizia pubblica, 50 mila sono completamente sfitte. 50 mila sono completamente sfitte e le graduatorie non vanno assolutamente avanti. Quindi capiamo che c'è un problema effettivo. Una casa sfitta che non viene data da anni e anni e anni perché i comuni non le vogliono dare, per questioni burocratici, per questioni di speculazione, perché quello che si fa con le case popolari le si lascia abbandonate fino a che diventano inagibili e quindi poi devono essere vendute perché il comune non ha i soldi per ristrutturarle, devono essere vendute e non sono più case di edilizia pubblica. È così che il nostro patrimonio di edilizia pubblica si è ridotto un po' perché sono state vendute a quelle che le avevano ottenute dalle graduatorie, quindi poi c'è stata una vendita dell'edilizia pubblica e un po' perché sono andate praticamente in disuso per poi venderle a grandi gruppi che ci hanno fatto invece case non di edilizia pubblica. Quindi questo è un dato che avviene all'interno del nostro paese e che lascia 650 mila persone in vista d'attesa per entrare nelle case popolari. Se si è in vista d'attesa per entrare nelle case popolari vuol dire che ci sono dei problemi effettivi che le persone hanno necessità di quella casa. Se queste case sono vuote, a me fa un po' specie quando si mette la proprietà, neanche privata poi, la proprietà pubblica perché se è proprietà di un comune è proprietà pubblica, si sovreleva alla necessità di un bisogno. Ma quindi mi perdoni Scuderi, il ragionamento è c'è tanta gente che ha bisogno della casa, ci sono le case vuote e quindi è giusto occuparle? Questo è il ragionamento? Ma se non vengono assegnate quindi che si fa? Se come abbiamo detto non vengono assegnate che si fa? L'occupazione è una forma di lotta, è una forma di lotta che serve a determinare un stato di giustizia. La cosa più ingiusta che possa avvenire è che quelle case restino sfitte, la cosa più giusta è che vengano assegnate. Questa è la sua posizione, Montemagni. Io non capisco se si cerca di dare la colpa a chi amministra i comuni che non vuole assegnare le case. Ma è un problema che c'è da questo punto di vista di burocrazia eccessiva, lo sappiamo. Sì, però tante case sappiamo che sono sfitte perché hanno bisogno di una messa a norma. Cosa che stiamo cercando di fare in tutti i modi, ne è un esempio quello che è stato fatto nell'accordo tra Mitt e Regione Lazio, i 54 milioni che sono stati assegnati proprio per andare a rimettere a norma l'esistente e anche a costruire del nuovo. Questo va fatto, non occupare le case. Questo si fa a trovare soluzioni, aiutare chi deve regestire il patrimonio immobiliare che sia Regione, poi a cascata, i comuni piuttosto che andare a cercare soluzioni anche che non prevedano per forza l'assegnazione di un alloggio. Perché quando noi, il Ministro Matteo Salvini, ha progettato il piano salva casa serve proprio anche per andare a liberare degli immobili che sono bloccati dalla burocrazia e che magari consentirebbero, mi viene un caso che purtroppo è all'ordine del giorno, due persone si separano e una delle due deve lasciare casa. C'è un immobile ma ad oggi per piccole difformità non può essere reso agibile, non possiamo andarci ad abitare, piuttosto che un fondo che può cambiare destinazione d'uso. Questo è quello che va fatto, cercare di sfruttare il patrimonio che abbiamo, renderlo assolutamente idoneo ad essere abitato, perché se andiamo a occupare degli edifici che sono anche patiscenti, mettiamo anche a rischio la persona che ci va a star dentro. È una forma di lotta sociale. Secondo me è anche pericoloso quello che viene detto, andiamo a occupare degli edifici che magari non sono nemmeno a norme, che sono pure pericolosi. A me mi sembra un'affermazione veramente surreale. Per lei non è una forma di lotta sociale? No, no, la lotta sociale non si fa in legalità. Le lotte sociali si fanno all'interno delle regole e delle leggi, in maniera legittima e legale. Se facessimo le lotte, le regole e delle leggi non cambieremo mai niente, mi scusi. Ma Ilaria Salis aveva bisogno di occupare un edificio o aveva una casa di proprietà o quantomeno i genitori potevano tenerla a casa? Era per la strada? Una alla volta, prego Scuderi. Lei non è che è occupato per le necessità personale, lei faceva parte dei movimenti per il diritto alla casa. Tra l'altro l'hanno trovata una volta lì, senza neanche accertare che ci vivesse o meno. Nel periodo che le viene criminato, che le viene addebitato, c'è anche una parte in cui era in carcere in Ungheria, quindi questa occupazione voglio sapere come poteva farla. Ma a me non mi si trovano sicuramente per occupare le case, questa è una certezza. Ma è perché lei le lotte di giustizia sociale non le fa? No, io le faccio nella legalità, come le sta facendo il ministro Salvini, come le fanno tanti i nostri amministratori che ogni giorno si battono contro la burocrazia per assegnare gli alloggi popolari. È difficile riuscirle a fare all'interno, sempre all'interno della legalità, se ci sono delle leggi a volte ingiuste. Noi abbiamo dei casi, quando le proteste non erano possibili, si facevano le proteste, quello era anche illegale, le sembra una cosa che non dovrebbe essere fatta. Cioè il punto è che a volte se ci sono dei meccanismi che lasciano delle persone senza un diritto fondamentale, che è appunto il diritto ad avere una casa, ci devono essere delle forme di contrasto e di attivazione della giustizia sociale che vanno oltre quello che può essere il nostro scenario. Mi perdoni, scuderi, ma non si rischia così di vivere in un far west dove io occupo una casa, esco e la casa che io ho occupato viene occupata a sua volta da qualcun altro. Però questo io non lo accetto, perché non è mai stato così. Chi fa questo sono delle persone dei criminali. I movimenti per la casa di cui stiamo parlando hanno sempre e solo preso delle case che erano sfitte da anni e le hanno rimesse a nuovo con i loro soldi. Lei parla dei movimenti per l'occupazione della casa. È quello di cui stiamo parlando. Ma se noi, no, perché se noi facciamo passare, aspetti, mi lasci concludere, se noi facciamo passare il messaggio che per lotta sociale si intende occupare una casa, immagino che qualcuno che ci sta seguendo in questo momento, eppur non facendo parte dei movimenti, dica, beh, io sono senza una casa, allora è giusto, per lotta sociale vado a occupare questa a fianco del che ho visto che è vuota. Ma non succede solo con le case sfitte abbandonate, perché il signor Umberto di Napoli è tornato da lavoro e ha trovato la serratura cambiata e qualcuno che gli ha occupato casa, e voi con questa narrazione del bisogno alla casa, costringete l'illegalità, non c'entra, e allora che è andato a occupare la casa del signor Umberto, allora cosa ha fatto? L'occupazione che voi andate tanto raccontando in giro, avevano bisogno, hanno trovato una casa dove potevano entrare, perché in quel momento non c'era nessuno, e è successo anche a persone che erano in ospedale la stessa cosa, e hanno occupato la casa di altri. Un attimo, un attimo. Siamo parlando di occupazione di case sfitte, quindi di occupazione di spazi liberi che dovrebbero essere dati a delle persone che non vengono assegnate. Cioè, sono le graduatorie. È inutile che mi fai caso del signor Umberto. Ci sono le graduatorie. È inutile che sono bloccate da anni, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare quello che è stato fatto e che stiamo facendo, cioè mettere a norma il patrimonio immobiliare, e cercare poi, quando il patrimonio immobiliare è messo a norma, di assegnarlo. Credo che entrambe le posizioni siano più che chiare. No, ma io però volevo capire come fanno aver sistemato a spese loro degli immobili che non sono loro, con quali permessi, che permessi hanno presentato in comune su un immobile che non è loro per sistemarlo. Sistemare non vuol dire fare dei lavori strutturali, ovviamente non si possono fare dei lavori strutturali. Vuol dire cercare di non lasciare in uno stato di abbandono degli edifici. Ma io ripeto, io non penso che le occupazioni siano una cosa auspicabile. Io non le vorrei mai. Vorrei che tutto funzionasse perché lo Stato funziona. Questo Stato non sta funzionando però e noi siamo in un'emergenza abitativa, ci sono 190.000 famiglie che sono a rischio di sfratto, anzi sono già sotto procedura di sfratto, 650.000 persone in graduatoria per l'edilizia pubblica. Non si fa una casa di edilizia pubblica dagli anni 90 e mi dispiace, quei 50 milioni che ha predisposto, 100 milioni in tutta Italia che ha predisposto il suo ministero, non servono assolutamente a niente perché qui parliamo di miliardi. E qui ve le dico un'altra cosa. Quando il suo partito in Europa combatteva contro la direttiva per l'efficientamento di vizio, quando invece noi dicevamo che quella direttiva doveva guardare a tutto il patrimonio di edilizia pubblica, il patrimonio abbandonato, iniziando da quello e mettendo dei fondi dell'Europa per ristrutturare quello, voi dove eravate invece di opporvi? Come la proteggete questa casa? Me lo spieghi come proteggete la casa? Ma stiamo parlando dell'efficientamento energetico? Perché voglio capire chi è, che è in realtà come fa a spendere soldi per adeguare un immobile. Scuderi ha fatto una domanda e allora vediamo di capire la risposta anche di Montemagni. Chiedeva se il riferimento era l'efficientamento energetico, quello che faceva lei di riferimento. L'efficientamento energetico e la ristrutturazione perché poi l'efficientamento energetico, tutti i dati dicono che ci vuole in media 65 mila euro per rendere efficiente dal punto di vista energetico, un immobile. Ora, se parliamo di persone che hanno un disagio, dove li trovano i soldi per fare l'efficientamento? Ma non ha sentito niente di quello che ha detto. Ma siamo d'accordo che se vogliamo andare in una direzione green nell'Europa dovrebbe anche contribuire a aiutarci. Su questo io posso trovarmi anche d'accordo, ma niente c'entra con chi è in disagio abitativo. Poi torniamo al decreto, fermi lì, fermi lì al salva casa. Matteo però, sono toste e oggi ci lasciano parlare poco, è giusto che sia così. Il tema e il problema esiste, quello dell'emergenza abitativa, ma siamo ancora in tempi di lotta sociale, come si dice, oppure no? Beh, sì, diciamo che è sempre un buon momento per, diciamo, proporre i propri ideali, sicuramente. Bisognerebbe farlo nell'ambito dell'ecito, naturalmente, perché se no da una buona idea si fa presto a trasformare le città in una giungla. Il problema che rischia è quello. Io mi trovo anche d'accordo con l'idea di Scuderi, diciamo che sta alla base, cioè l'idea di Scuderi, l'idea di, diciamo... Di occupare. No, di alleanza, no, di alleanza verdi-sinistra. Ecco il re, cioè l'idea è bella, cioè ci sono tanti immobili sfitti che non sono di fatto utilizzati, sarebbe il caso di darli a chi ne ha bisogno. Questo indubbiamente è vero. Anche se non sono normali, perché il problema spesso è che non sono normali, e questo è punto. Vabbè, sono sfitti anche per quello, no? Potrebbe renderli utilizzabili, insomma non è così semplice. Ed è giusto combattere per questo, sicuramente con delle manifestazioni, manifestando la propria idea, eccetera. È chiaro che il passo è breve poi nell'entrare, come dicevi tu correttamente, in un far west. Il rischio purtroppo esiste, perché se si inizia con quella logica, poi appunto chi ha ragione diventa una logica di sopraffazione, una legge del più forte, una legge di prepotenza fondamentalmente, che finirebbe facilmente nelle mani della malavita organizzata. Anche se credo che quello che stesse dicendo prima Scuderi... Però ha ragione Scuderi, ovvero il problema esiste. I movimenti per la casa lo fanno per provocazione, per porre l'attenzione su un problema che andrebbe risolto diversamente. No, no, ma noi non stiamo parlando di questo, noi stiamo parlando del fatto che secondo Fratoianni si dovrebbe lasciare libertà di occupazione. Questo purtroppo semplicemente non è possibile, non si può fare. In Italia non si può fare. È un indecito. È così, non si può fare. Però prima Scuderi diceva anche il decreto Salvini-Salvacasa non serve a nulla, se vuole rispondere. No, io veramente penso che ci sia un po' di scollamento con la realtà in questa affermazione, perché basta avere un minimo di sensibilità a parlare col territorio e entrare semplicemente negli uffici comunali preposti per rendersi conto che ci sono pratiche che sono bloccate da anni di persone che cercano di vendere, affittare o andare a abitare in un immobile che già esiste. Cosa significa questo? Intanto l'immobile c'è e quindi evitiamo il consumo di suolo. Significa che possiamo fare della rigenerazione urbana se sblocchiamo ovviamente qualcosa che già c'è e inoltre il decreto Salvacasa dà anche la possibilità di cambiare la destinazione d'uso ad alcune fattispecie di immobili. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi usiamo quello che abbiamo riusciamo a dare intanto risposte ai cittadini, non solo ai cittadini ma anche al mercato, perché comunque chi acquista una casa tendenzialmente poi la ristrutturà anche, per cui diamo il via a un circuito che è un circuito virtuoso. Ma inoltre diamo la possibilità anche a quei nuclei familiari che oggi magari non possono staccarsi dalla propria famiglia, mi vengono in mente proprio ragazzi giovani, no? Magari di proprietà, i genitori hanno un immobile che ha qualche piccola difformità, perché poi si parla di questo, non si parla di grandi difformità, quindi sono anche in buona fede. Cioè c'è chi si ritrova con un immobile di difformità in buona fede. Ma c'è anche chi probabilmente nel tempo se ne ha un po' approfittato, voi giustamente le chiamate salva casa, ma molte volte può sembrare il classico condono all'italiana, o no? No, non è un condono assolutamente. La maggior parte di queste difformità derivano da immobili che hanno qualche anno di età e derivano da modalità di misurazione molto antiquata, mi viene in mente la famosa stecca, rispetto alle misurazioni di ora. Poi abbiamo delle leggi che ovviamente mi viene in mente la variante in corso d'opera che è stata destituita dal 77 con la Boccalossi, quindi prima non c'era. Però giustamente, quando si parla però di legalità o meno, io so che non si può buttare giù un muro in una casa, le piccole difformità sono quelle, se uno l'ha fatto nel tempo e poi prova a vendere la casa a catastro non risulta il muro che è stato buttato giù, è stato compiuto l'illecito. Molte di queste difformità erano già sanabili e quindi non c'entra niente il salvacasa, con una scia, con una semplice scia. Per cui gli spostamenti interni minori non è che si potevano già sanare prima, quindi come facciamo a parlare di condono? Però è quello che ha fatto la manzardina, le cose. No, ma si parla di qualche centimetro in più, si parla di una veranda che magari è stata chiusa anche tanti anni fa, si parla di queste difformità che sono veramente minuzie, ma che bloccano il mercato e bloccano la possibilità di andare ad abitare lì e anche di affittare o vendere. Scuderi, l'ha convinta? Allora, io innanzitutto volevo dire che non ho detto che il decreto salva casa è una cosa completamente inutile. Io ho detto che l'approccio è quello sbagliato per risolvere l'emergenza abitativa. L'emergenza abitativa non c'è perché non si può, a parte che queste case sono assolutamente abitabili, non è vero che non possono essere abitate. Non possono essere vendute, non possono essere vendute, laddove ci siano delle difformità. E io devo dirle la verità, mi trovo anche in accordo con alcune parti del decreto salva casa che appunto a volte anche se c'è un piccolo sgabuzzino costruito sotto il tavolo è un problema. Mi rendo conto che alcune cose molto minori debbano, se è un muro che è spostato di un centimetro, una finestra spostata di un centimetro non può andare a bloccare la casa, a inficiare la casa. Chiaramente un po' diverso quando iniziamo a parlare di verande, quando iniziamo a parlare di metri in più, quando iniziamo a parlare, perché lì proprio cambia la struttura dell'edificio. E su questo per me non è proprio lo stesso ragionamento, quindi mettere già tutto nello stesso calderone no, non mi convince. Comunque secondo lei non servirà a sbloccare il mercato. Non servirà a sbloccare l'emergenza abitativa perché l'emergenza abitativa c'è per altissimi altri motivi che sono strutturali del nostro territorio, che sono i prezzi degli affitti altissimi, che sono la differenza di demografia rispetto a quella che c'era prima, perché le case ci sono ma sono vuote perché si vive in altri posti, quindi non serve il decreto salva casa. Quello che però voglio dire è che loro provano a rispondere a questa emergenza abitativa vendendo delle case ancora meno dignitose, perché una delle parti della strategia di Salvini è di dire sotto i 18 metri quadri, un appartamento di 18 metri quadri con un soffitto di 2 metri e 40 è abitabile, lo rendiamo abitabile, cioè questo vuol dire un garage. Quindi invece di pensare a investire per dare una casa dignitosa alle persone, investire quindi sulla ristrutturazione, sul nuovo patrimonio edilizio, sull'efficientamento degli edifici, investire su queste cose, si dice guarda c'è un'emergenza abitativa, andate a vivere nei sottoscala. È così, ferma Scuderi, è così Montemagni? Intanto in molti paesi d'Europa già l'altezza è 2 metri e 40 quindi insomma dovrebbe anche conoscere. E poi faccio notare che in molte di queste situazioni le persone già ci abitano. Cioè noi stiamo semplicemente dando la possibilità di utilizzare gli spazi che già esistono, in alcuni casi già anche utilizzati in modo lecito e legittimo, in modo che si possa utilizzare il patrimonio esistente senza andarne a costruire di nuovo e rendendo possibile a chi ha una proprietà di poterla sfruttare al massimo. Questo è quello che abbiamo detto. Un attimo solo Scuderi. Non capisco una cosa, non posso dire una cosa velocissima. Com'è possibile che quando si occupa una casa è una cosa illecita e inaccettabile, se si utilizza una casa non a norma, quello va benissimo e lo saniamo. Cioè com'è questo? Due pesi, due misure su una legalità nostra? Una casa non a norma che è la finestra spostata o chi sa magari ad oggi un'abitazione che prevede anche una manzarda e magari non lo può dividere in due appartamenti perché la manzarda ad oggi manca due centimetri. Ma di cosa parliamo? Sono due cose totalmente diverse. Va bene. Occupare non è legale, non è legale. Fermi, usciamone un attimo. Neanche le case non a norma sono legali. Usciamone un attimo, usciamone un attimo, si parlava di appartamenti fermi. Ma infatti sono appartamenti e immobili che ad oggi non sono utilizzati. Scuderi Montemagli, fermi un attimo. Mi ha appena detto che li utilizzavo. Per favore, per favore, Scuderi, usciamone un secondo. Torno sui 18 metri quadri. È vero che oggi già sono utilizzate, però non è neanche così tanto dignitoso in grandi città, una su tutte, Milano, sono più volte casi riportati anche dalle cronache di appartamenti venduti o affittati a 15 metri quadri a prezzi esorbitanti. Ci vuole anche una dignità di quello che viene venduto, di quello che viene affittato. Ma diamogli un po' di numeri. Vediamo intanto il cartello numero 4. Si parlava di case occupate abusivamente. Quante sono, secondo una stima ferma al 2021, i dati sono quelli di Nomisma FederCasa. Ripeto, non sono aggiornati, gli ultimi sono proprio questi. Occupate abusivamente ce ne sono 50.000 in Italia, 20.000 sono case di enti privati, 30.000 di edilizia residenziale pubblica. Poi c'è tutto il caso invece delle case occupate proprio direttamente alle persone, alle famiglie. Qui parliamo di enti privati e di edilizia pubblica. È un numero alto, un numero basso? Che numero è questo, Montemagno? Beh, io vedo 20.000 di enti privati e qui invece, fino ad ora abbiamo detto che questa cosa non si fa. E allora vorrei che la Spuderici dicesse che quelle 20.000 in unità immobiliare occupate devono essere sgombrate e chi c'è dentro se ne deve andare. Perché a questo punto quelle lì sono di proprietà di qualcuno. Allora... Beh, però sono magari di enti privati che non le utilizzano. Che facciamo? Che vuol dire? Ma sono di enti privati, sono di proprietà. Io sfido chiunque ad avere una proprietà che è sua e vedersela occupata e domani non ne può più disporre. Perché comunque se io ho una proprietà, a parte non significa che io sia ricco, perché magari la posso avere ereditata nonostante sia un disoccupato. La voglio vendere e non la posso vendere perché è occupata? Ma è una roba che c'è... È un numero basso o un numero alto quello? A parte che sono numeri bassissimi. Sono numeri veramente bassi. E quindi non mi sembra sia un'emergenza questa di cui stare a Spuder. Non siamo nel Fair West. Non siamo nel Fair West. Mi sembra abbastanza evidente. Ma in ogni caso, io ripeto, l'occupazione per me non dovrebbe esistere. Perché non dovrebbe esserci questo problema. E chi occupa senza questo problema per me dovrebbe rimanere nell'illegalità. Perché se si occupa per risolvere un'emergenza è una cosa, io non vorrei che l'emergenza esistesse. Partiamo da questo presupposto. Anche perché non pensate che occupare sia, ah che bello, non pago l'affitto. Occupare vuol dire vivere in uno stato... Cioè, non è proprio semplicissimo. E non è una cosa che penso che nessuno voglia fare perché gli va. Quindi partiamo da questo presupposto. Il secondo presupposto... Però mi perdoni, chi occupa quelle case degli enti pubblici, enti privati, che probabilmente manco sanno che sono forse state occupate o se lo sanno non riescono a intervenire. Mi perdoni, non riesco a intervenire. Non credo che faccia una vita così difficile, no? Chiunque vorrebbe stare magari in un appartamento senza doverlo pagare. Per cui... Eh, ma perché non è proprio, non funziona proprio così. A volte non sono appartamenti, a volte sono degli stabilimenti magari... In cui c'erano, non so, non fabbriche ma depositi o magazzini e vengono occupati. Cioè, non sono proprio delle situazioni sempre come ci immaginiamo, mi metto in una casa con tutti i comfort, c'ho le bollette e l'affitto e non pago l'affitto. Ecco, questa è una situazione, una delle tantissime situazioni che si trovano. Il punto è che se è vero che ci sono persone che occupano edifici che sono di antiprivati o che sono addirittura di privati cittadini, perché antiprivato è privato cittadino, poi è molto diverso, e che creano un danno, la maggior parte delle occupazioni, che ripeto, io non sono una fautrice perché penso che non dovrebbe esserci questa vicissità, la maggior parte delle occupazioni, paradossalmente, il danno non lo creano nemmeno perché sono cose che erano abbandonate e non vedevano nemmeno in Italia. Vediamolo però, perché vediamo il cartello numero 6. Anche Salis dice, se io occupo una casa popolare che lì è abbandonata e fattiscente, non faccio danno, non tolgo niente a nessuno. In realtà hanno un costo le occupazioni. Tre tra i comuni dove c'è il più alto numero di occupazioni in Italia, i dati parlano chiaro. A Roma l'occupazione degli appartamenti costa al comune, agli enti, 72 milioni l'anno. Sarà poco per il bilancio di un comune grande come Roma? Forsempre sono 72 milioni. A Bari 85, a Napoli, dove il numero delle case occupate è ancora più alto, siamo a 133 milioni. Matteo, è tollerabile? Ma non è questione di essere... Cioè, scusa, perché questi soldi potrebbero essere usati per ristrutturarli. Ecco, quello più che altro, perché giustamente un comune dice, li metto anche a bilancio, me ne faccio una ragione, sono soldi che so che... Eh, vabbè. Però se invece non ci fosse quella necessità, ci fosse la possibilità di investire quei soldi, che sono anche pochi, ma che intanto sono già qualcosa, per rimettere ad agio, diciamo, delle situazioni attualmente non utilizzabili, o investire, che ne so, in dei... nel calmirare magari gli affitti... Nelle agevolazioni per... Nelle agevolazioni per i mutui, che ne so, ecco. Potrebbe essere sicuramente meglio. Scuderi prima parlava di un aspetto, quello del fatto che non si abita più, ormai, tanti anni, negli stessi posti in cui si abitava 50 anni fa. Cioè, diciamo, l'aspetto demografico si è concentrato sulle grandi città, sui grandi centri abitati, Milano, Roma, eccetera. Si è spopolata invece la provincia, soprattutto alcune parti della provincia, le campagne, ci sono molti paesi, spesso ci sono delle iniziative interessanti, se ne parla spesso. Le case a un euro. Le case a un euro, no, eccetera. purché uno ripopoli quel borgo, rimetta posto, eccetera, e via discorrendo. Ecco, bisognerebbe dare la possibilità di incentivare quel tipo di decentralizzazione, tornare a vivere quei borghi, tornare a vivere quei paesi, dove un affitto costa effettivamente poco, o comunque sicuramente meno, comprare casa costa sicuramente poco. Però spesso lì mancano i servizi essenziali, anche banalmente, no? Più che altro il servizio essenziale che manca... Il trasporto, la scuola, l'ufficio postale. Sì, sì. Il grosso problema oggi in Italia è il digital divide. E quello anche. Cioè se si permettesse a tutti di avere una connessione ottima, se non altro buona, si potrebbe tornare a fare smart working in maniera seria, e questi borghi ripopolandosi, naturalmente... Dando casa, creano bisogno. Creano poi un'esigenza di mercato e vedrai che allora iniziano ad aprire negozi, supermercati, poste, eccetera. Nel frattempo, una bella biciclettina, perché poi c'è anche una logica diversa, come tu sai che tu sei autore della bicicletta, quindi ci si può anche spostare, no? Perché sennò allora diventa un po' viziata dal fatto che voglio la casa, ma la voglio a Milano, perché devo andare alla Bicocca e però non mi posso spostare, perché poi, fu uscito dall'università, devo andare a fare l'ape con la Cicci e con la Franci, e però nel frattempo poi me ne torno nella casa occupata. Allora, quello no, quello è fantascienza, e invece se magari ci si sbatte a fare una bella pedalata e si torna anziché a Milano, magari a Voghera, e poi si va a Milano a lavorare, a studiare, insomma, bisogna far passare un po' di fantasia, no? Cerchiamo di capire se è praticabile oppure no. Certo che è praticabile. Scuderi, e poi molte maglie. Scuderi, cosa ne pensa? Tutte le pedalate che fai tu? Sì, scusate, ho perso un attimo l'audio, quindi era un attimo... No, è praticabile nel senso il nostro obiettivo deve essere quello di investire sulla distrutturazione, sull'efficientamento, sull'avere effettivamente un patrimonio che ci permetta di garantire una vivibilità e garantire da casa. Praticabile è anche un'altra... Quello che dovremmo fare è anche lo sviluppo in generale dei territori, perché ecco, quello di cui si parlava del digital nomad, no? I nomadi digitali, cioè che io mi sposto a un posto e vado in un altro posto. In realtà ha delle conseguenze nascoste ma neanche troppo, perché se io col mio stipendio di Milano me ne vado in provincia di Catanzaro, creo un processo di inflazione abbastanza rilevante, perché ovviamente non sono solamente io, saremo un gruppo di persone che hanno una capacità di acquisto Purtroppo spesso succede che se ti trasferisci a vivere a Catanzaro ti adeguano lo stipendio al ribasso, però capita anche questo. Ma non sempre però, e comunque anche il ribasso purtroppo nel divario che abbiamo nella nostra nazione, nel nostro paese, abbiamo un divario molto grande e anche lo stipendio al ribasso che può avvenire da Milano a volte crea un potere d'acquisto molto grande che va volente o volente a creare quella che poi noi definiamo gentrificazione. Quindi non è così semplice. Non è una cosa così semplice, però non pensiamo di poter far morire così i nostri territori. Noi crediamo che c'è un territorio che è più sviluppato, destinato ad esserlo, e uno meno sviluppato, destinato ad esserlo, dove le persone vanno a lavorare, però facendo il vero profitto, perché poi il vero profitto non lo dà il mio stipendio, ma lo dà l'esistenza di quell'azienda in un altro territorio. Ecco, noi dovremmo anche puntare a livellare questa situazione e a dare sempre più limpa a tutti i territori. È un processo un po' più complicato e proprio articolato. Anche per quanto riguarda i trasporti, lo sviluppo. È chiaro, Montemagni è praticabile oppure no anche un po' di decentramento abitativo? Sono molto d'accordo con il direttore perché credo che poi diventa un cane che si morde la coda, perché è vero che mancano i servizi, ma mancano perché si spopola. Quindi quando noi portiamo la popolazione tornano di conseguenza anche i servizi. Dobbiamo rendere affettibili e far capire alle persone che si può vivere anche fuori dai centri delle città. Anche perché si verifica un fenomeno strano da noi, molti degli stranieri che arrivano in vacanza cercano proprio quei luoghi lì. La peculiarità dei nostri piccoli borghi. La peculiarità dei borghi, del silenzio, della natura. E questo secondo me invece è qualcosa che dovremmo sviluppare perché la questione delle zone più montane, delle zone più periferiche, non devono più essere periferiche, cioè le dobbiamo far tornare a vivere. È una sfida importante, complessa, ma è ovvio che le sfide a volte sono belle anche perché sono complesse, ma devono essere tutte affrontate. Perché altrimenti è impensabile dire ci trasferiamo tutti a Milano, a Roma, o nei capologhi, o nei capologhi di provincia. Perché sono le uniche città, le grandi città, dove c'è un po' di possibilità di trovare lavoro, ad esempio, di avere qualche servizio in più oggi. Ma i nostri genitori andavano comunque a lavorare facendo mezz'ora di macchina. Col treno. Col treno, con la macchina. Con la corriera. Con la corriera, quindi il pullman. Lo facevano. Quindi non capisco perché oggi non si debba far più. Io ho sempre vissuto, per mia somma fortuna, e vivo ancora in campagna, è vero, molto vicino al mare, ma comunque io per arrivare in pianura ci metto un quarto d'ora con la macchina. Bene, lo faccio volentieri perché ci sto bene dove stiamo. Il problema è che ci deve essere la corriera. E nel paese dove abito. Ci deve essere la corriera. Certo, assolutamente ci devono essere i servizi, ma ci deve essere ovviamente anche un rilancio di quei territori. Se non rilanci i territori non arrivano le persone, non arrivano i servizi. Questa è una sfida che si può condividere. Torniamo sulle case. Ma non certo quella di pensare di occupare le case in centro, come si diceva, perché voglio stare in centro, perché vado a fare l'aperitivo cioè questo veramente è insostenibile. Cartello numero 7. Si fa anche in un bello livello. Un attimo, arrivo scuderi. Cartello numero 7. Vediamo che cosa ha fatto per la lotta all'occupazione abusiva. Quali sono nel pacchetto sicurezza, nel disegno di legge del pacchetto sicurezza, quali sono i provvedimenti presi per la lotta alle occupazioni abusive. Intanto è stato introdotto un nuovo reato. Dietro alla presentazione di querela è prevista la reclusione per chi occupa da 2 a 7 anni. Poi un procedimento più veloce per lo sgombero. se è l'unica casa in possesso quella che è stata occupata e il proprietario ha solo quella casa lì, intervengono subito le forze dell'ordine senza più necessità del provvedimento giudiziario, perché oggi invece c'è molta più, insomma, la prassi è molto più lunga. Se uno si trova la casa occupata non ha molta difficoltà, ma banalmente senza arrivare alla lotta dei movimenti per l'occupazione delle case. Un inquilino che non paga più l'affitto, allontanarlo non è così semplice se si barrica in casa. E poi la non punibilità per chi occupa ma abbandona l'immobile volontariamente dopo averlo appunto occupato e collabora agli accertamenti. Insomma, un incentivo ad abbandonare la casa occupata. Questo nel disegno di legge pacchetto sicurezza come obiettivo visto che comunque è vero i numeri non sono così alti ma stanno aumentando come obiettivo quello di ridurre proprio le occupazioni. Quello ci sta diciamo come cose come quando metto una mela fuori di casa per attirare le formiche e togliermele dalle valle sostanzialmente se uno ha occupato perché ha la necessità di fronte alla prospettiva comunque di essere appunto condannato per un reato se si abbandona da solo questo non c'è forse di sicuro un buon incentivo ma giusto per chiudere il caso prima di sentire la voce degli italiani deve pagare quei 90 mila euro che sono stati conteggiati dall'Aler l'azienda l'agenzia delle case popolari di Milano Salis per aver occupato la casa? Io parto da un presupposto semplice che quando ci sono queste occupazioni abbiamo visto prima il cartello di quanto costano significa che le amministrazioni sono costrette a tagliare i servizi perché quando non entrano i soldi le amministrazioni cosa fanno da qualche parte li togono quindi il danno viene fatto doppio viene fatto perché si occupa una casa che magari era destinata a qualcuno che in maniera legale è in lista d'attesa e oltretutto tagliamo anche il servizio al cittadino che è fuori quindi le occupazioni sono da condannare per una serie di motivi quindi sì quei 90 mila euro lei li deve ridare ha la possibilità di darli li deve ridare perché non sono suoi sono soldi che devono tornare sulla comunità e sulla gente e sulla civiltà scuderi deve pagare oppure no salis io non capisco come sono stati colcolati questo non lo sa nessuno perché nel calcolo è una stima che è stata fatta è una stima fatta su basata su cosa non ci sono nessun tipo di prove sui canoni che devono trovare lì una volta ma nessuno l'ha provato in quegli anni nessuno ha provato che lei l'ha occupata per tutti quegli anni nessuno ha provato lei l'hanno trovata lì una volta seduta lì dentro nessuno ha provato che la stava effettivamente occupando però lei stessa ha ammesso di aver occupato la casa essendo parte non ha mai detto di averla occupata per tutti quegli anni anzi lei lo nega e nel calcolo degli anni ripeto c'era una parte in cui l'era in carcere in Ungheria mi sembra difficile occupare una casa però mi perdoni allora scuderi facciamo una questione dell'importo o una questione di principio lasci perdere 90.000 euro accertato che siete stata lì per sei mesi i sei mesi li deve pagare oppure no? ma cosa deve pagare? deve pagare un canone non corrisposto per un'occupazione un canone non corrisposto ma penso che su questo si deve cioè dobbiamo comprendere quale cosa quale dichiesta si sta facendo e la motivazione per cui si è dovuto andare a occupare quella casa quindi secondo me è non siamo giudici e questo non è non è una cosa che io posso chiedere che venga fatta senza sapere effettivamente guardi il presidente della regione il presidente della regione un attimo arriva il presidente della regione Lombardia Fontana ha detto il presidente Fontana ha detto ha un debito e come ogni debito va pagato ogni italiano che ha un debito deve pagare io le riporto le parole del presidente Fontana lei mi chiedeva sulla base di cosa dovrebbe pagare le dico dal fatto che ha occupato che ha un debito dice Fontana e quindi la fa semplice non scherziamo nessuno ha accertato che il calcolo sia vero che quegli anni siano tutti lei abbia occupato per tutti quegli anni stiamo parlando di aria fritta e poi se vogliamo parlare di debito la Lega qualche debituccio ce l'ha con i milioni che ha preso quindi parliamo di debito quando non si sa cosa dire torniamo a cercare robe che quando si è in difficoltà si finisce sempre su questo tema però io non ho capito ma lei poi parla di 90 mila euro una volta vanno dati o no perché ci sta parlando degli spiccioli di quanti ma non abbiamo ancora capito se li deve dare o meno se è giusto che questi 90 mila euro tornino nella disponibilità del pubblico che li riveste per i cittadini o se sono della Salis perché avete deciso così Scuderi io non ho detto questo ho detto semplicemente che deve essere tutto accertato perché quello che è stato proposto è chiaramente non giusto perché ci sono degli anni in cui lei fisicamente non era in Italia e ne abbiamo le prove lei dichiara di non essere stata per tutto quel tempo la sua posizione è chiara non incestiamoci ulteriormente la mia posizione è molto chiara che stiamo parlando di aria fritta perché se noi non abbiamo accertato il debito e verificato l'esistenza del debito e verificato l'entità del debito per me parliamo di aria fritta e questo di questo stiamo parlando quando sarà la sua posizione è quella chiaro perché nel nostro stato di diritto funziona così si pagherà se si deve pagare qualcosa gli italiani cosa ne pensano dell'emergenza abitativa e anche di questo caso lo abbiamo chiesto come sempre tra la gente per strada o lo ha fatto la nostra Elisa Ortuso l'emergenza abitativa è un problema sempre più attuale in Italia ma quali possono essere le soluzioni e che cosa ne pensano gli italiani delle parole di Laria Salis ne ho eletta al Parlamento Europeo che si è espressa a sostegno dei movimenti di lotta per la casa andiamo a sentire attualmente c'è un aumento degli affitti e una crescita fino alle stelle dei prezzi degli appartamenti che cosa ne pensa e come pensa si possa risolvere questo problema in Italia ma la situazione è complicata perché i giovani non si spostano più da casa gli stipendi sono troppo bassi i guadagni sono bassi gli affitti sono sempre più alti il governo dovrebbe aumentare perlomeno gli affitti cioè diminuire gli affitti e aumentare un po' di più gli stipendi come risolverlo non saprei però sta diventando problematico perché prendere i mutui è diventato impossibile gli affitti altrettanto perché la richiesta è altissima sono la prima a pagare 1000 euro per una casa piccola quindi per chi lavora è uno stipendio normale direi che ci rimette lo stipendio intero ritengo che in questo senso soprattutto sul mercato immobiliare abbia grande considerazione i discorsi che fa Christine Lagarde e quindi l'aumento dei tassi di interesse in questo senso della banca centrale influiscono tantissimo io stessa comunque ho una casa in affitto in una zona alle porte di Roma quindi è una follia per me pagare 700 euro al mese questo va a susseguirsi comunque a una serie di problematiche anche per l'aumento dei prezzi del caro vita in generale ma penso che con le tasse che abbiamo e la politica che è stata fatta per gli appartamenti in Italia tutto questo sia normale aumenta tutto è giusto che i proprietari di casa aumentino anche gli affitti dei loro proprietà Ilaria Salis ne ho eletta al Parlamento Europeo si è pronunciata in merito all'emergenza abitativa dicendo che si può arrivare anche addirittura a occupare case sfitte pur di risolverla lei che cosa ne pensa? Non so se possa essere la soluzione giusta penso che sia troppo drastica magari in un atto di disperazione chi non ha niente posso capire che potrebbe valutarla come soluzione sì non è una cattiva idea secondo me l'occupazione della casa sfitta se sta lì così al degrado tanto vale che la prende qualcuno piuttosto sono un po' contrario rispetto a questa cosa perché mi sembra una cosa eccessiva da fare nei confronti certo anche il fatto che comunque molta gente abusa di case in affitto anche questa è un'altra questione a parte beh diciamo che no l'occupazione è sempre sintomo dell'uso della forza noi siamo uno stato di diritto dovremmo preferire sempre il diritto e la civiltà la forza bruda in Italia succede di tutto e infatti ci rappresenta in Europa pensi che bella figura facciamo dal nostro campione emerge preoccupazione circa l'aumento degli affitti c'è una richiesta di intervento dello stato per abbassare i prezzi ed aumentare gli stipendi le parole di Laira Salis invece non convincono e non vengono condivise dalla maggioranza che reputa l'occupazione delle case sfitte una soluzione troppo drastica anche se un paio Matteo abbiamo sentito hanno detto beh di fronte alla disperazione iniziamo a farci un pensierino quasi quasi stasera vado con un piede di porco e quello che mi brillavo a farla aperta non buttare giù niente a quel signore gli brillavano gli occhi effettivamente l'altro è quello che diceva effettivamente ora che ci penso potrebbe essere un'ipotesi stasera vediamo i numeri delle case scusami Davide ecco questo volevo dire mi domando questo qualcuno a quanto pare è anche abbastanza concorde con questo scenario quindi va bene ci mancherebbe giustamente vince sempre la democrazia la democrazia non si è convinto ma dovrebbe essere così abbiamo scelto questo questo modello e questo abbiamo mi domando se Fratoianne avesse palesato questa sua desiderata in campagna elettorale l'avesse messo magari nei manifesti come Salvini ha messo proteggiamo la casa e invece Fratoianne avesse messo occupiamo le case vorrei capire quanti voti avrebbe preso oggi diventerà una proposta quella di non rendere reato che lui lo ha detto quindi non so se si tramuterà in un atto concreto con la richiesta di una proposta di legge dovevo capire quanti voti prendeva beh la salista e le presi tanti alleanza verde sinistra non con quel motto lì diciamo chissà cartello numero 5 vediamo dicevo quante sono le case sfitte oggi in Italia 10 milioni il 30% delle case censite con una discrepanza come potete vedere tra nord centro e sud dati non è stato semplice trovarli sono istat al sud c'è un numero molto più alto di case sfitte una percentuale molto più alta il 36% andiamo a vedere però anche quanto costa oggi pagare una casa in affitto il cartello numero 8 i dati in questo caso sono usciti da poco sono stati elaborati da sole 24 ore quanto pesa sullo stipendio medio una casa in affitto nel 2018 il 31% dello stipendio andava in affitto oggi siamo al 35,2% ma con dei picchi incredibili a Firenze il 46,5% dello stipendio va in affitto a Venezia quasi il 44% a Roma il 41,5% a Bologna il 40% a Milano il 37,4% a incidere sono soprattutto gli affitti brevi perché laddove ci sono città turistiche come appunto Firenze e Venezia il dato è abbastanza evidente molti proprietari di appartamenti preferiscono ricorrere agli affitti brevi e quindi chi affitta la casa per lungo tempo il classico 4,4% alla fine lo alza per avere almeno un introito superiore rispetto alla media di un tempo questa è la situazione Scuderi che cosa bisogna fare? lavorare anche sugli affitti brevi allora per cercare di rendere più facile affittare o comunque ha ragione cioè affittare da parte di chi deve affittare o ha ragione quella persona che intervistata diceva beh è normale aumenta tutto è giusto anche aumentare l'affitto no l'affitto sta aumentando in un modo incredibilmente sproporzionale rispetto a tutto il resto quello che abbiamo visto cioè il peso dell'affitto sullo stipendio è la media di tutta Italia e questo vuol dire che ci sono alcuni posti in cui il peso dell'affitto sullo stipendio supera la metà e l'abbiamo visto 46% a Firenze quindi appunto quindi scusatemi non mi sono persa quella grafica quindi la nostra cioè dobbiamo dobbiamo assolutamente lavorare anche sugli affitti brevi questa è una cosa che noi faremo in Europa nei prossimi due anni il Parlamento europeo nel scorso mandato ha dichiarato un impegno a lavorare per la regolamentazione degli affitti brevi almeno per quanto riguarda le pratiche di trasparenza il Parlamento non ha una competenza super specifica per quanto riguarda le a casa gli affitti brevi e questo tipo di materie ma deve assolutamente lavorare per richiedere una maggiore trasparenza perché ad oggi le piattaforme non sono neanche obbligate a dare tutti i dati di quante siano gli appartamenti le case che sono date consegnate per affitti brevi rispetto al totale questo non permette neanche una capacità di regolamentazione i governi invece ce l'hanno la possibilità di regolamentare perché in alcuni paesi in giro per il mondo tra i primi ci sono stati Barcellona ma adesso anche New York è stata messa una stretta se ne parla anche da noi in Italia qualcosa forse in più si può fare o no Montemagno si si se ne parla è giusto che nel dibattito ci rientri tutto però faccio notare che giustamente dalla grafica dov'è che costa di più l'affitto è nel centro delle grandi città cioè dov'è che l'affitto si alza laddove c'è la maggior parte di richiesta perché poi a un certo punto c'è anche la questione del mercato perché il prezzo lo fa il mercato però gli affitti brevi hanno un po' falsato il mercato si è vero ma se uno abitasse nel comune io proprietario di casa probabilmente spenderebbe meno però io non capisco prego no ma non capisco perché le persone che lavorano che hanno tantissimi impegni che fanno fatica devono andarsene dalla città in cui lavorano in un'altra città perché ci sono delle persone che devono fare un profitto sugli affitti brevi ma in che senso a parte che è sempre stato fatto perché i miei genitori non hanno mai lavorato nel comune dove risiedevano e quindi credo che sia una cosa estremamente fattibile soprattutto perché insomma siamo nel 2024 e credo che i mezzi di trasporto non manchino assolutamente però a questo punto dovremmo stare tutti in città abbandoniamo completamente gli altri comuni li lasciamo all'abbandono perché nessuno ci deve stare gli affitti vanno cercati solo in grandi città Scuderi dice da quanto cerco di interpretare c'è chi fa profitto sugli appartamenti sugli affitti costringendo chi non ha le capacità le potenzialità di doversi andare a cercare un altro posto dove vivere e magari anche dove lavorare come dire mettiamo dei tetti forse al profitto per gli affitti è possibile allora io la proprietà privata si può regolamentare in questo modo torno sul tema ripeto intanto il mercato determina anche il prezzo fino a prova contraria questo è se si vuole abitare in centro città si vuole abitare a Roma si vuole abitare in centro a Firenze uno deve mettere in conto che di affitto spende di più ma non da oggi attenzione prima abbiamo visto quanto pesava pesava meno era così anche prima che ci fossero gli affitti brevi però pesava meno gli affitti più alti sono sempre stati nel centro delle città è così da sempre storicamente allora oggi tutti hanno voglia di andare a vivere nel centro della città o altrimenti uno può farsi anche mezz'ora di strada come hanno sempre fatto i nostri genitori i nostri nonni per andare a lavoro con mezzi ovviamente che non sono quelli del 2024 perché altro che in bicicletta ci andavano anche a piedi ci andavano anche a piedi e io credo che sia fattibile spostarsi nel comune accanto per trovare un affitto un pochino più basso quindi mi sembra di capire però che AWS ci dica che dobbiamo per forza stare in città e dobbiamo per forza avere tutto sotto casa ma tutto sotto casa non esiste da mai noi vogliamo dare la possibilità alle persone di vivere nelle città dove lavorano e quindi nelle grandi città se questo è impossibile perché ci sono troppe persone non deve essere impossibile perché le persone devono fare un approfitto incredibile ma quindi lei metterebbe un tetto all'affitto metterebbe allora questa non è una bisogna tradurlo in qualcosa di concreto ci sono tantissime traduzioni concrete io le dico guarda il tetto sugli affitti è la cosa che meno funziona l'hanno provata e non funziona si deve mettere un tetto sulla quantità di case che possono essere affittate su Airbnb gli affitti brevi e quello sì quello assolutamente perché se il 60% delle case di una città dentro al cerchio del primo il secondo cerchio della città in affitti brevi capiamo che l'economia reale ne viene danneggiata perché poi quello che succede è che c'è un cambio totale perché quello che si snatura anche il tessuto urbano ma su questo credo che tutti siamo un pochino d'accordo su questo sì per un profitto di pochissimo c'è stata un po' di mancanza di regolamentazione di un fenomeno che oggi forse va regolamentato non è stato governato proprio questo fenomeno no perché non non si è stato anche sottovalutato sottovalutato non li hanno visti arrivare quelli di Airbnb e tutti gli altri diciamo delle piattaforme analoghe nel senso che se Bruxelles pensasse a uno far pagare le tasse a queste piattaforme nel paese dove hanno interesse però non hanno interesse a farlo perché comunque comunque a livello europeo da qualche parte le tasse le pagano che le paghino in Irlanda o che le paghino in Italia loro che gliene frega niente invece al paese sì quindi far pagare le tasse nel paese dove effettivamente hanno e far pagare le tasse in maniera anche importante ragionare su una sorta di Robin Tax non se ne è parlato tanto di questo se si facessero perché poi i profitti non li fa tanto la persona il privato li fanno anche loro certo indubbiamente ma soprattutto le fanno nel moltiplicatore queste piattaforme senza dubbio senza dubbio ecco vediamo il cartello numero 9 che cosa invece è stato fatto fino ad oggi per nel piano casa dare agevolazioni intanto per gli under 36 che vogliono acquistare una casa le imposte c'è un'esenzione delle imposte per l'acquisto appunto da privato sono più basse per tutte le persone addirittura l'esenzione per gli under 36 sempre per gli under 36 c'è l'agevolazione sui mutui il fondo di garanzia sui mutui prima casa per le famiglie numerose è stato istituito a 282 milioni famiglie numerose che ha 3-4 figli o più e poi un'accedolare secca più cara per gli affitti brevi al 26% questo è il provvedimento che è stato introdotto proprio di recente si è passati dal 21-22% al 26% con l'accedolare più cara per chi utilizza appunto il proprio appartamento per gli affitti brevi si può fare di più si però certo se uno limita come diceva la collega la possibilità degli affitti brevi significa che io che ho lo stesso immobile suo magari lo posso affittare e lei no e allora si crea una disparità brevemente io credo che ciascuno debba essere libero di poter gestire la propria proprietà come meglio crede perché è sua e allora non si può neanche creare disparità tra qualcuno che siccome arriva due giorni prima lo può fare allora io che arrivo due giorni dopo e ho lo stesso diritto suo di farlo non lo posso più fare cioè ci dobbiamo un po' mettere d'accordo su cose come vogliamo gestire le situazioni perché altrimenti rischiamo veramente di creare un problema anche di equità tra i nostri cittadini se io sono proprietario di un immobile ho tutto il diritto di decidere come disporne è mio l'ho comprato l'ho acquistato ci pago sopra le tasse quindi è ovvio che però ci sono i piani irogatori dei comuni che decidono quanti esercizi commerciali di certa natura possono starci può succedere lo stesso per gli appartamenti le zone di destinazione certo questi ovviamente lo fanno le amministrazioni però è altrettanto vero che insomma se io ho in disponibilità un immobile e è lo stesso immobile che ha il mio vicino di casa e abbiamo due immobili identici non vedo perché lui ne può disporre in un modo io no Scuderi sì ma no quello che diceva lei è assolutamente giusto nel senso che questa è la base della civiltà la regolamentazione delle attività commerciali perché quello è un'attività commerciale perché l'affitto breve non è affittare non è più un affittare a un privato e quindi un'attività di locazione mobiliare per destinazione abitativa che non è un'attività prettamente commerciale quella dell'affitto breve diventano un'attività di ospitalità di hospitality commerciale e questa va regolamentata non è che si può fare tutto quello che si vuole cioè io non capisco perché da una parte se si parla di deregolamentare delle cose è far west se invece chiediamo di regolamentarne altre no assolutamente uno deve fare tutto assolutamente tutto quello che vuole con la propria proprietà privata do una notizia già non si può fare tutto quello che si vuole con la propria proprietà privata perché si può affittare soltanto per determinate destinazioni non è che si potrebbe affittare per tutto si può se è una mobile a destinazione di immobiliare quindi di abitativa deve essere affittato a destinazione abitativa e non è detto che l'affitto breve debba essere necessariamente nel lungo termine considerato una destinazione abitativa perché non assolve la funzione di abitazione ma una funzione di turismo che è una cosa molto diversa quindi quella sarebbe la regolamentazione non della proprietà privata ma di un'attività turistica commerciale cosa che notizia a notizia già esiste e si fa per tutto non si fa per gli affitti brevi perché sono una nuova forma che non conoscevamo prima e che è subentrata così come il lavoro tutto chiaro siamo alla fine che però è legale è legale rispetto ad occupare l'immobile quindi è evidente che la differenza in realtà c'è quando si dice come mai per una cosa si dice che si può fare per una cosa perché una è legale e una non è legale quindi mi sembra semplice perché lo facciamo oltretutto è chiaro che già oggi le destinazioni d'uso hanno una motivazione di esistere di essere ma è uno dei punti toccati proprio dal salva casa di Matteo Salvini per rimettere in disponibilità di immobili che abbiamo mi fermo poi perché ho capito che siamo in chiusura per dire anche che abbiamo una proposta che è stata presentata da Massimiliano Romeo al Senato per l'inserimento della tutela della casa in Costituzione perché per noi la casa è sacra punto tutela della casa tutela anche dalle occupazioni certo ecco grazie alle nostre ospite di questa puntata da Bruxelles Benedetta Scuderi Alleanza Verdi Sinistra buon lavoro capiremo cosa l'Europa farà intanto sulle alleanze e sulla scelta dei commissari perché il dibattito ora si sposta tutto lì ne parleremo ne abbiamo già parlato ne parleremo grazie a Elisa Montemani della Lega grazie mille a voi e a te Matteo come sempre grazie Davide d'altronde l'hai visto anche Harry Styles si è comprato la casa in provincia di Viterbo vogliono venire tutti in Italia sì ma non a Roma però è andato fuori e quindi si è adattato pure Harry Styles voglio dire ma ci manca solo che se la prenda in piazza di Spagna-Roma sai cosa succederebbe potrebbe permettere tu vai a regolare il traffico delle fan non sarebbe semplice grazie per averci seguito ci vediamo la prossima settimana sempre qui Mosche grazie a tutti